Scusate un attimo se vi rubo proprio 30 secondi, anche di più grazie. No, tendevo a portarvi tutti a conoscenza che domenica ad Aulla abbiamo inaugurato il centro sportivo di Vicciana Nardi, centro sportivo Terra Rossa, un centro sportivo che è rimasto alluvionato a ottobre dalla luvione del Magra. Noi come centro ordinamenti insieme al Parra Calcio, ai Boys, ai Lions, ai Bar di Valceno e al Circo L'Aquila Longhi ci siamo impegnati tutto l'inverno per fare in modo che questo centro sportivo riprendesse l'attività. Domenica siamo stesi a Aliciana Nardi, Terra Rossa, per inaugurare questo centro sportivo. Io tendevo a mettermi tutto il corrente di questa cosa che secondo me è stata veramente una cosa bella, una cosa veramente che mi viene ancora da vedere dopo adesso a parlarne. Domenica eravamo giù in una trentina di persone. È stata una giornata bellissima, abbiamo visto gente veramente che gli è tornato in sorriso. Non solo sulle labbra ma negli occhi. Gente contenta. Abbiamo dato uno stimolo per ripartire alla gente che era rimasta alluvionata purtroppo nel mese di ottobre. Tenevo a ringraziare tutti, ma veramente tutti, non solo i tifosi o chi ha partecipato, ma tutta la cittadinanza che ha dato l'opportunità di riprendere questo centro sportivo. Dove che farlo ripartire. Porto anche là il ringraziamento dalle persone che di Sananardi. Vi ringrazio tutti, ma veramente per l'opera che siamo riusciti a portare a terra.